La justizia significa ripristinare il diritto stipite del diritto del lavoro, ossia l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, significa attribuire finalmente agli agenti in servizio d'ordine il codice identificativo, significa rivedere il testo del reato di tortura, significa ancora abolire l'ergasto, significa infine prevedere misure atte a rendere tali e effettivi i diritti non soltanto proclamati sulla Carta. In un paese dove dige una legge elettorale che incredibilmente è peggiore di quella italiana e ce ne vuole assai, per cui per essere rappresentati è difficilissimo, un partito come l'HDP e i leader e i rappresentanti di un partito come l'HDP vengono incarcerati soltanto nella qualità di oppositori politici. Quindi la manifestazione del dissenso non è un problema di ordine pubblico e la lotta alla povertà non deve trasformarsi in lotta ai poveri. E lo vediamo con ciò che è successo oggi a Macerata, con qualcosa che ha dell'incredibile perché quando poi i topi escono dalle fogne può succedere di tutto, di tutto. Se poi anche io dovrò, chi lo sa, difendermi da qualche cosa so che ci siete voi perché questo è l'unico momento in cui veramente non ci si sente soli. Potere al popolo!